Ottima difesa nell'area e attenzione prova il passaggio spettacolare Clark per Bowers Bowers con tutta alza e lo attacca in velocità, lo scarico per Hubalek da due punti a segno anche il giocatore Cicco che ormai ha trovato una... Rosselli alla rimessa, attenzione 5 secondi, palla per Bulleri su di lui Mike Green fa vedere Young palla per Hubalek, si gira il suo tiro e lo mette Hubalek con grande scioltezza, molto da giocare, questa serie ha ancora molto da dire questa almeno è l'impressione al di là del risultato e al di là di questo secondo tempo appannaggio della formazione Varesina intanto Hubalek la penetrazione, questo finale di partita trova la via del Canello